Amore, oggi ti faccio una torta old style Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale Ma perché stai in posizione del gobbo? No, mi piace stare così, per stare più vicino ai nostri amici Ciao a tutti! Per t'abbracciarli! Come si dice? Ciao a tutti! Sì, ciao, ciao! Oggi una ricetta veramente old style Una buonissima torta di castagne Con proprio il cuore, proprio tutto l'impasto Che sa che ha un buonissimo sapore di castagne E con dentro incastonata una pioggia di marron glacé E' una torta buona e golosissima Adatta sia per inzupparla nel latte Che per accompagnarla al tè Che per magnarsela così quando vi pare Basta aspettare, spostiamoci di là e andiamo là Per preparare! Ed ecco gli ingredienti per la nostra buonissima e sanissima torta ai marroni Allora, 50 grammi di cacao amaro 200 grammi di zucchero di canna Quello vero, quello sottile sottile Che bello, sembra quasi sappia Quattro uova intere 170 grammi di olio di semi 170 grammi di acqua Alla Lidl ho comprato questo marron glacé crema Un barattolo di crema di marron glacé Questo della Deluxe Ce ne sono di due tipi Io tempo fa avevo comprato anche questo Però questa ha una percentuale più alta di marroni Perché ha sia i marron glacé che i marroni Poi 300 grammi di farina Io qui ho una farina integrale Un cucchiaino di essenza di vaniglia Una bustina di lievito per dolci Un pizzico di sale E poi al posto delle gocce di cioccolato Ho preso questi marron glacé Alla Lidl li trovate 5,90 euro, 18 marron glacé Io ne userò un 9 Diciamo 9 marron glacé Mezza scatola Del tutto facoltativo La guarnizione Che io farò con 200 grammi di cioccolato fondente al 74% E un altro pochino di crema di marroni Quindi oltre quella che vi ho dato nella ricetta Se volete fare anche la guarnizione barra farcitura Dovete averne altri 100 grammi di questa crema di marroni E poi un marron glacé Per proprio guarnire Come fosse la ciliegina sulla torta Qua diremo che abbiamo il marron glacé sulla torta Bene, cominciamo In una ciotola verso tutto lo zucchero Di canna Di canna Il cucchiaino di essenza di vaniglia E le 4 uova 1 Bravissima E montiamo bene il tutto Fino a che non sarà diventato una bella schiuma Benissimo Benissimo Diventata una bellissima crema Uniamo L'olio Essenzino vuole può versare anche l'acqua L'acqua Così Bravi Tutta, 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 tutta Bravissima E mixiamo A questo punto Cominciamo ad unire le polveri Metto Vai Tutta la farina Tutta E tutti i 50 grammi Di cacao Il pizzico di sale E la bustina di lievito Per dolci Qui Enzino Col ditino santo Prendi il ditino È pulita questa mano? Passi al setaccio Tutto Così che passi tutto dai buchini Dai amore Fallo tu Bravo E mixiamo ben bene E così già verrebbe un buonissimo ciambellone al cacao Ora inseriamo la crema di maroni e marron glacé Tutto il bacio Ma fai assaggiare Io non l'ho mai assaggiata Ora ti lascio Ora vi lascio il barattolo Grazie E mixiamo ben bene il tutto Questa è una golosa alternativa alla farina di castagne E anche un'alternativa un bel po' più economica Certo Adesso Prendiamo un piatto Prendiamo i 9 marron glacé E trituriamoli Quindi incorporiamo i nostri marron glacé a pezzettoni E mixiamo il tutto E versiamo Grazie Tutto in una bella tortiera La nostra è del diametro di 28 cm E adesso in forno combinato sia ventilato che grill nella parte superiore Anche se io questa parte la coprirò con l'alluminio Ci sarà circa 50 minuti per cuocere Non abbiate fretta E soprattutto non aprite il forno per la prima mezz'ora Fate lievitare molto bene Naturalmente prima di tirarla fuori dal forno Fate sempre la prova a stecchino Perché ogni forno è a sé Tadà Tadà Ed eccola qua Sembra proprio del colore di una castagna Adesso facciamola raffreddare Se volete ragazzi così la torta è buona, pronta e squisita Altrimenti potete fare un taglio al centro Mettere ancora un po' di crema La torta si è bella che raffreddata Quindi togliamo lo stampo a terniera La lascio sul supporto della teglia perché la devo trasportare Quindi preferisco, faccio un taglio a metà Va bene Wow Vieni un attimo Vieni un attimo e dritta Questa l'ho presa alla Lidl E con queste invece che ho preso su Banggood Vi lascio il video dove ne parlavamo Questa me l'hanno inviata Guardate i marron glacé Apro l'altra cremina Ci starebbe bene anche la Nutella Ma faremo i bravi anche perché siamo tutti più adulti Quindi una bella cremolata di marron glacé Ci sta veramente bene La ripoggio Quindi Colo altra crema sulla mia torta Ho messo su un'alzatina la mia torta E la centro Adesso prendo il mio cioccolato E lo metto in microonde Non lo tempero ragazzi Perché sono le 11 e mezza E non ho il tempo 11 e mezza di notte E non ho il tempo Ma se avessi tempo lo tempererei Perché so come fare Vi ho fatto anche vedere come fare A temperare il cioccolato In modo che rimanga bello lucido Vi metto il video dove c'è lei col palline Uno dei primi video di 2.1k Lo metto in microonde per 30-40 secondi Prendo un canovaccio E prima vado a versare il mio cioccolato Sui bordi In modo che faccia la colatura laterale Che non mi interessa che sia super coperta Cioè che nel lato rimanga un po' scoperto Mi piace L'importante è che si veda la colatura del cioccolato E una volta colata Sui laterali Ricopro anche Il centrale E la mia super torta è pronta A dire il vero Manca il tocco finale Ora è decisamente Una torta Perfetta Lascio rapprendere E adesso vi lascio alle foto Ciao Bene Se anche tu hai preparato questa torta di castagne Beh Hai fatto la cosa giusta Perché è giusto dare Un valore aggiunto alla castagna Basta mangiarla secca Bollita Arrosto Basta Basta Marron glacé E soprattutto spero che vi sia interessato Il modo in cui ho utilizzato In maniera un po' alternativa Dei prodotti industriali Come la crema di marroni E i marron glacé Inserendoli in un piatto un po' più composito Perché sì La crema di marroni è buonissima Spalmata sul pane Ma vi posso assicurare che usata intrinsecamente nelle preparazioni Da quel quid in più Che se avessero dovuto fare voi partendo dalla castagna Avrebbe portato via molto molto più tempo Quindi è anche Fruttura di marroni In buona sostanza In pratica sarebbe Brava Brava Quindi non lo è stato Questo è un modo per farvi vedere come poi noi utilizziamo le cose che compriamo Nei nostri vuota la spesa magnifici Brava E allora Non ti perde il prossimo vuoto alla spesa Dove ombretta Si prefigge Di arrivare almeno a 200 euro di spesa Giusto giusto Il tuo obiettivo è 200 euro di spesa Ma quante scelte Non ve lo perdete Veramente articoli pazzeschi Bene Quindi basta Vai a preparare anche tu questa torta Con la di castagne E non ti rompere più i marroni Benissimo E noi ci vediamo sempre qua al prossimo video Ciao Ciao E sulle vostre tavole Giusto Ciao